ma alza forte c'è la ring chart e certo Medina you and I alle 15 e 42 minuti con un bottoncino che fa mi piace eh io cara la mia sarettina Sara Sara Luque Luque Lucarini perché mi guardi così un attimino ti faccio capire subito il tutto stai così tranquilla ma no Rudy ma dai oh ragazzi chiusa fuori Sara e allora con piacere che vi presento Rina la meteorina sexy ma ciao Rudy è un altro ambiente il radio e ciao ascoltatori ciao cara di radio italiana tua ti vedo informissima oggi con la voce un po' così però il look è notevole ma ti ringrazio è un attaccato a spettacolo eh sì oggi tacco venti perché già sono alta però insomma con i capelli biondi il tacco nero ci sta tutto la meteorina sexy è pronta per le previsioni del tempo per domani passiamo subito e partiamo dal nord nubi ancora nubi ancora nubi a tratti irregolari tra Liguria via Padana anno Val Padana mi strazzo con la caramella sono sicuro Toscana ma a sud al sud sì al sud poco parzialmente nuvoloso e poi più soleggiato altrove centro e al centro qualche nube sparsa e poi la pioggia scende fitta ehi calma le temperature previste per domani Milano Milano temperature cara non possiamo far così sospendiamo sospendiamo l'appuntamento con le previsioni Rina temperature a Milano minima meno uno massima quattro e poi a Palermo minima nove massima quattordici alla capitale andiamo a Roma Roma Fiumicino o Sampino oppure Urbe e poi chiudiamo con due massima undici e chiudiamo con Chiavari no Chiavari oggi no dai Chiavari no no Chiavari no tutti i giorni a Chiavari le temperature sono altissime Rinchart Radio Italia Network i brani più trasmessi da Radio Italia Network